Il Palasport di Corso Germania è senza dubbio un teatro per la Palavolo Andriese e l'Amazoni Sport del mister Mimo Carbonara ha onorato la scena al meglio, imponendosi dopo poco più di un'ora su Maedomo Casoria. La squadra campana, accreditata di uomini importanti e di una posizione in classifica di vertice, soccombe di fronte al martellante gioco andriese ed una grande serata di Davide Carbonara e Fabio Spesca, autentici mattatori della serata. Buona la prova del nuovo libero Antonio Pepe, che riesce a riportare tranquillità e sicurezza alla fase difensiva della squadra andriese. La grinatura Amazonis-Portandria torna alla vittoria dopo due pesanti sconfitte e guarda con fiducia e serenità alla sfida di sabato 21 febbraio contro il Putignano per proseguire nel suo cammino verso la salvezza nel difficile campionato nazionale di B2. La squadra andriese parte bene, ritrovando la verve e la concentrazione di inizio campionato. Il primo set è dominato dagli uomini di mister Carbonara, con un parziale che è più chiaro di così non si può, 25-18. L'impressione è che la squadra andriese possa portare i tre punti a casa nel difficile match contro il Casoria, impressione che si concretizza nei successivi due set, dove pur soffrendo e rimontando alcune situazioni di svantaggio nel terzo set, riesce a concludere la partita sul risultato secco di 3-0 con parziali 25-21 nel secondo set e 25-23 nel terzo decisivo set. Sabato prossimo l'Amazoni Sport sarà impegnata ancora una volta tra le muri amiche del Palasport di Andrea contro il Time Cutting Edge Putignano. Nella gara d'andata ci fu la grande prestazione dei ragazzi di mister Carbonara, che si imposero con un secco 3-0 sul campo della città pugliese del Carnevale. L'inizio del match è previsto per le ore 19 con la diretta in esclusiva su www.tscsport.com.